All'Aldo Vigino si gioca Borgo Vercelli-Borgaro. Si deve aspettare fino al diciassettesimo del primo tempo per la prima occasione sfruttata benissimo da Moscardi che con un gran destro da fuori area scavalca Paratone e firma il gol del momentaneo 1-0. Al trentesimo gran percussione di Gniemmi che si guadagna un prezioso calcio di rigore realizzato da Gerbaudo che spiazza il portiere e porta il Borgo Vercelli sul 2-0. Al quarantunesimo Moscardi si ritrova la palla del 3-0 che però finisce di poco sopra la traversa. Al quarantottesimo il Borgaro si presenta davanti all'area di rigore avversaria con Orofino che tenta di impensierire Bonassi da fuori area. Al cinquantanovesimo dagli sviluppi di un calcio d'angolo Molfetta prende l'ascensore e infila Bonassi portando il match sul 2-1. Dieci minuti dopo Liberali allontana direttamente sui piedi di Taraschi che però non impensierisce il portiere. Al settantacinquesimo Bonassi viene espulso per questo intervento fuori dalla sua area lasciando il Borgo Vercelli in inferiorità numerica. Cinque minuti dopo Fontana pesca Orofino sul secondo palo che aiutato dalla traversa riporta il match in parità. Finisce quindi 2-2 l'incontro tra Borgo Vercelli e Borgaro.